Irene Favaretto ci parlerà ora dell'opera di Anti relativamente al Museo archeologico di Venezia. Allora vi parlerò brevemente perché sarebbe molto lunga questa vicenda, molto interessante, ho scoperto tante cose ma poi le inserirò penso negli atti. Quindi vorrei cominciare però con una breve nota autobiografica, ne ha già parlato il professor Milanesi che resterà nella storia della mia vita universitaria, ho visto tanti rettori però lui resta il mio rettore perché sotto di lui ho avuto questa bellissima avventura di essere nominata prorettore con delega al patrimonio storico artistico e abbiamo insieme potuto fare anche tante cose per la valorizzazione del Bo e del Liviano. Perciò non posso tacere, ne ha già parlato, a dire la verità Vincenzo Milanesi. Una breve nota autobiografica. Se sono qui a parlarvi, se ho seguito la strada dell'archeologia lo devo proprio a Carlo Anti che nel lontano 1954 era presidente di commissione a mio esame di maturità qui a Venezia al Marco Polo. Avevamo un commissario di latino e greco particolarmente burbero e Anti con gentili calcetti sotto il tavolo mi fece capire di non spaventarmi e tutto andò bene. Ero allora incerta se all'università dedicarmi alla natura o al mondo animale o all'archeologia. L'incontro con Anti fu determinante e non me ne sono mai pentita, anche se oggi tutto sommato sono un po' tornata all'altro mio interesse, mai sopito gli animali, e convivo felicemente con due gatte molto speciali. Curiosamente, lungo gli anni dell'università, devo questa fotografia a Carina Calvi, è stata scattata al giorno della sua ultima lezione. Anti non ci parlò mai o molto poco del Museo archeologico di Venezia, né ci invitò mai a visitarlo, eppure oggi viene considerato una delle sue realizzazioni più interessanti, al centro di numerosi dibattiti sull'opportunità di intervenire sull'allestimento, che conta ormai quasi cento anni, per renderlo più attuale, senza troppo stravolgere le linee guida di allora. Faccio vedere rapidamente la fotografia, domani prometto che porto la lista di queste persone, ma sono molto prima del mio tempo, se parliamo di età preistorica praticamente, invece in alto a sinistra è una visita fatta da Anti con i suoi studenti, però al Teatro Romano di Verona, questo lo dedico a Margherita Bolla. Al Maffeiano? Al Maffeiano. Bene, grazie, perché era assegnata come Teatro Romano, invece Maffeiano. E queste persone, qualcuna le riconoscete, ma è impossibile che non le riconosco neanche io. Devo dire che il museo archeologico, che riveste un interesse storico-artistico di grande importanza anche per la storia di Venezia, non è inserito come dovrebbe tra i monumenti e i musei da visitare, non è come si dice un mast, e questo molto dipende dalla sua natura di museo con opere d'arte greca e romana e di altre civiltà antiche, senza che vi sia specificato, se non in modo abbastanza criptico, alcun collegamento con Venezia e la sua storia, ben presente invece nell'attivo Museo Correr, nella Libreria Marciana e a Palazzo Ducale, per rimanere nell'area marciana che è la più battuta dai turisti. Eppure sappiamo che il museo, o meglio le collezioni che hanno formato il museo, sono dovute alla volontà di un buon numero di veneziani che dal XV secolo ad oggi hanno acquistato, cercato, raccolto e conservato oggetti provenienti in particolar modo da Grecia, Egitto, Asia Minore, per poi affidarli a Venezia, conci del loro valore culturale e artistico e anche per perpetuare la memoria dei rapporti con quelle terre oltremare con cui Venezia ebbe nei secoli della Repubblica lunga consuetudine. La storia del Museo archeologico nazionale ha alle spalle una fascinante vicenda secolare in cui l'intervento di Carlo Anti è stato indubbiamente determinante per trasformare delle collezioni di sculture antiche apprezzate per il loro valore artistico e per i loro aspetti iconografici in un museo scientificamente ordinato in uno strumento didattico di storia dell'arte greca e romana e non solo. La vicenda è, almeno credo, nota. E proprio per questo ne consegno le tappe fondamentali al testo per gli atti del convegno, limitandomi a ricordare l'origine cinquecentesca della raccolta dovuta al cardinale Domenico Grimani e a sua nipote Giovanni, patriarca di Aquileia, che fece dono di più di 200 sculture greche e romane alla Serenissima, permettendo così la costituzione dello statuario pubblico, qui in un disegno settecentesco, il primo museo in Europa collocato nell'antisala della libreria marciana, su questo bisognerebbe discutere, sugli uffizi, però gli uffizi forse non erano un museo pubblico, mentre lo statuario era, cioè ci poteva andare chiunque. Dopo la caduta della Repubblica nel 1797, cominciarono gli aspostamenti delle sculture in Palazzo Ducale, dove trovarono collocazioni diverse e non adeguate alla loro importanza. Fu però lì che Adolf Furtwängler riconobbe il nucleo delle sculture greche originali e questo segnò il risveglio dell'interesse degli specialisti per l'intera raccolta. Dopo Caporetto, per sicurezza, tutte le sculture vennero inviate a Firenze. Al loro rientro si trovò una sede più adeguata nelle procuratie nuove, proprio accanto alla sede storica dello statuario. Fu Carlo Anti, negli anni venti del Novecento, ad occuparsi del nuovo allestimento e a questo ora ci dedicheremo. Vorrei toccare i tre punti fondamentali della vicenda del Museo archeologico che hanno visto Carlo Anti protagonista della sua realizzazione. Il primo punto. Le premesse e la ideazione del museo. In un fascicolo di Deedalo degli anni 1926-1927, in un lungo articolo che raccoglie il suo pensiero sul museo in via di allestimento, Carlo Anti scrive «Ho sempre sognato di un museo ideale per le sculture antiche, che rimarrà sempre un sogno. Tale museo dovrebbe essere costruito quando si avessero già presente tutte le sculture da collocarvi, perché ogni suo ambiente fosse studiato in vista del pezzo o dei pezzi da contenere. Evidentemente la situazione che le aveva davanti, la collocazione del museo nelle sale monumentali delle procuratie, non corrispondeva al suo sogno. E insiste sempre Deedalo. In questi anni ho avuto la fortuna di avere fra mano i marmi antichi del Museo archeologico di Venezia per un loro nuovo e radicale ordinamento. Naturalmente ho potuto attuare solo in piccola parte le belle idee che mi giravano in testa da vario tempo. Le belle idee che gli espone nel suo stile chiaro e conciso indicano come egli vorrebbe costruire il museo in modo che le sculture antiche siano, e dice, collocate con lo stesso amore e interesse con cui l'artista moderno colloca l'opera sua in una sala di esposizione. E continua elencando i requisiti del suo museo ideale, nel quale, dice, mostrare le sculture nella loro schiettezza, così come le ha restituita il suolo, senza aggiunte e pasticci. E a proposito di pasticci, Antti lamentava di ritrovarsi fra mano delle sculture, dice, massacrate dai restauri compiuti dal 1500 in poi. Procede subito a toglierli quasi tutti, l'abbondanza prima e dopo dei restauri. Ed è convinto che i marmi fossero stati nel tempo trascurati da studiosi e visitatori proprio perché deformati dai restauri. Riprendendo il suo sogno di un museo costruito intorno alle sculture antiche, Antti si accorge che gli spazi destinati ad accoglierle sono tutto sommato non sufficienti. D'accordo con Pericle Educati, incaricato dall'allora Ministero della Pubblica Istruzione a dare un suo parere ad affiancare Antti, nel 1922 si prese la decisione di separare le collezioni di arte classica da quelle di arte medievale e moderna che pur formavano un tutt'uno. Fu così che le sculture medievali rinascimentali ripresero la via dell'Accadoro, delle gallerie dell'Accademia, del Museo Correr e di altri musei veneziani, cancellando lo spirito di quello che era stato il collezionismo veneziano tra 5 e 700. Il secondo punto, la realizzazione e la guida. Già in Dedalo, Antti, tra i requisiti essenziali per un museo poi ripresi nella propedeutica archeologica del 1930, la prima edizione, indicava il percorso da seguire, di riunire cioè le sculture, dice, in gruppi cronologici e stilistici. Grazie alla documentazione rimasta possiamo seguire il percorso intellettuale e logistico che Antti compì per progettare il riordinamento del museo. All'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e D'Arte è conservato tale carte anti-polacco una busta, una grande busta, contenente un gran numero di schede relative al materiale del museo. Tali schede in cartoncino marrone di formato allungato non sono state stese da Carlo Antti. Sono a lui antecedenti ma non sembrano aver nulla a che fare con quanto pubblicato nelle varie guide o cataloghi. Le schede riportano la fotografia del pezzo in esame, i numeri di inventario, il titolo molto sintetico, le misure, la provenienza collezionistica, la descrizione dei restauri, non vi sono annotazioni a carattere storico-artistico. Antti se ne servì per concretizzare le sue idee ma prima controllò le schede una per una correggendo le misure e rivedendo la descrizione dei restauri moderni che in molti casi farà togliere in alto dove è la breccetta? Eccola là. Qua c'è scritto togliere. Antti se ne servì per concretizzare le sue idee ma prima controllò appunto le schede una per una. La sua grafia minuta, perfettamente riconoscibile, si inserisce sovrabbonendosi, cancellando e cambiando sullo scritto precedente aggiungendo citazioni di autori soprattutto tedeschi. Non dimentichiamo che tra i maestri più seguiti da Antti a Roma, come diceva Francesca Ghedini, vi era l'austriaco Emanuel Levy. Antti sui bordi laterali di molte delle schede appunta confronti, ipotesi di cronologia, considerazioni storico-artistiche. In molti casi richiamo a sculture conservate in musei greci, anche di centri minori, conferma la sua capillare conoscenza del territorio ellenico e la grande memoria visiva che gli fu certamente di aiuto nelle sue ricerche. Ma soprattutto le schede servirono a Antti in un modo molto pragmatico per organizzare la nuova distribuzione delle sculture e del restante materiale archeologico nelle diverse sale del museo. Vediamo infatti, raccolte in semplici fogli protocollo che fungono da camicia, le schede dei pezzi destinati a ciascuna sala. Vi era già stato dunque in precedenza un tentativo di riordino che però in gran parte è anticancella. La spiegazione dell'operazione si deduce dal fronte delle camicie dove Antti scrive il nuovo titolo della sala e l'elenco dei pezzi che vi andranno collocati con alcune indicazioni a carattere puramente museografico come la collocazione delle luci o in alcuni casi lo schizzo della sala stessa con le indicazioni di vetrine a pareti o in mezzo alla sala per gli oggetti più piccoli. Un esempio per tutte è la sala 3 la cui camicia dava in origine come titolo arcaismo, arcaicismo, stile severo diventa invece stanza dei primitivi e tale è rimasta. Il nuovo museo nacque così da questi mucchietti di schede molte nel frattempo andarono perdute e perdute sono molte delle fotografie che in gran parte rivoluzionarono l'ordinamento precedente. Il percorso del museo creato da Antti doveva rispecchiare lo sviluppo dell'arte greca e romana dalle origini al tardo antico e le sue idee trovarono un riscontro nelle pagine della guida dove esprime le sue posizioni sull'arte classica oggi possono suonare datate ma non superate comunque ricchi di spunti su cui ragionare. Il linguaggio è chiaro ma noi possiamo avvertire il frutto di anni di indagine e cogliere alcune importanti intuizioni da lui formulate che poi matureranno nel tempo. La guida fuori stampa da non se ne trova più qui infatti in fotocopia la guida venne pubblicata da Antti nel 1930 breve agile veloce ed è esemplare nel suo genere e Beschi la considera un capolavoro perché a dirlo con le sue parole non vuole essere un catalogo scientifico ma una guida per il visitatore che mira a mettere i non archeologi in grado di capire le opere d'arte esposte qui appare evidente la vocazione didattica di Antti che li fece superare tante traversie pur di ritornare alla sua amata cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana e riprendere l'insegnamento per capire alcune idee di Antti sul criterio di esposizione nella guida egli esprime il suo parere sulle copie romane da modelli greci che non avrebbero una propria resistenza come prodotto di officine romane ma sono importanti in quanto dice uniche testimonianze concrete di capolavori che altrimenti sarebbero completamente perduti e proprio per questo e per seguire nel nuovo museo il proposito di un percorso cronologico Antti vi inserisce anche le copie romane di originali greci nascono così le vedrete la saletta dei primitivi la sala del campanile la sala del Dioniso dove originali e copie si trovano fianco a fianco le seconde allo stesso livello formale delle prime è la saletta delle statue e grimani la sola in cui vi siano unicamente originali greci ed è anche quella che li fa ritenere che il museo di Venezia dice che la sua genesi è uno dei più ricchi in fatto di originali greci e da questo fatto deriva la sua particolare importanza per Antti il lavoro compiuto nel museo veneziano dovette rimanere a lungo come un'esperienza positiva penso che lo abbia considerato un laboratorio un luogo di ricerca e di studio tanto che anni più tardi fece riprodurre in gesso alcune delle statue e dei ritratti del museo per arricchire la piccola ma preziosa cipsoteca del museo del Liviano del nascente museo del Liviano ancora in dedolo dopo aver esposto le linee guida del suo museo ideale scrive se tutti questi desideri fossero soddisfatti garantisco che il museo non sarebbe più la prigione ma bensì il paradiso dell'arte ed è una bellissima veniamo al terzo e ultimo punto i primi passi del museo non furono poi così fortunati e Bianca Maria Scalfì a mettere in luce aspetti poco conosciuti di quei primi anni di vita del nuovo museo l'inaugurazione ebbe luogo molto in sordina nel 1926 il 25 aprile festa di San Marco e subito dopo il museo passò sotto la direzione della loro subprisendenza per i musei e gli scavi d'antichità del Veneto si affacciò entro a breve tempo il primo problema lo stesso dibattuto anche in anni successivi il disagio dell'accesso che all'inizio avveniva salendo una specie di scala di servizio così definita da antiche credo che sarà quella che faremo stasera solo nel 1929 si ottenne l'ingresso dalla piazzetta San Marco attraverso il cortile dello Scamozzi là dove c'è il grande Agrippa questo inconveniente causò un vivace dibattito tra l'allora soprintendente alle belle arti Gino Fogolari e Carlo Anti che accusava la poca attenzione delle autorità statali nei confronti del nuovo museo vi erano anche problemi di scarsità di personale pare vi fosse un unico custode per 13 sale iniziarono anche le schermaglie con il museo Correr che avrebbe visto di buon occhio l'ingresso alle proprie sale attraverso la libreria marciana e perciò il museo archeologico considerato questo come un corpo estraneo possibilmente da eliminare e questo dura più o meno fino ad oggi Carlo Anti pur non avendo più voce in capitolo si batte a fianco del sovrintendente l'antichità Ettore Ghislanzoni scrivendo nel 1928 una lunga accurata lettera al ministero in cui ammette il museo archeologico è poco apprezzato a Venezia ma ciò fa torta ai veneziani è la collezione più ricca di originali greci tra i quali sono dei veri capolavori e l'unico avanzo rimasto in Italia delle collezioni d'arte formate dai veneziani in Levante documento quindi anche della storia e della vita di Venezia forse anche si rese conto che al nuovo ordinamento mancava qualcosa quel collecamento appunto con il collezionismo veneziano che forse allora come oggi potrebbe rendere il museo archeologico più vicino alla città comunque dopo l'allestimento Anti sembrò che l'impianto generale non dovesse essere toccato perché corrispondeva come infatti era ed è tuttora alla costruzione di un percorso storico-artistico che permetteva di seguire attraverso le singole sculture lo sviluppo della storia dell'arte greca e romana e negli anni successivi che sono passati ormai quasi cento il museo salvo qualche spostamento miglioria e qualche nuova vetrina è rimasto fondamentalmente il museo di Carlo Anni non è facile riuscire a progettare come ormai si vorrebbe da più parti un nuovo ordinamento del museo almeno parziale che continui a dar ragione alla volontà di Anni di seguire un percorso cronologico e storico-artistico ma anche che mette in esalto il valore storico del collezionismo d'arte classica veneziana di cui il museo archeologico è geloso custode soprattutto pensando che tutto il resto delle collezioni di antichità più o meno il 90% è stato spazzato via al tempo della caduta della Serenissima e nei tristi anni successivi ad Anni dobbiamo un importante capitolo della storia di questo museo da noi ora elaborare i dati in nostro possesso nel rispetto di una mente illustre ma anche nella considerazione di quanto in questi anni si è appreso di nuovo potremmo così avvicinarci al sogno di Carlo Anzi che avrebbe voluto un museo creato intorno alle sculture e non viceversa perché se è pur vero che l'edificio che ha accolto le sculture antiche negli anni 20 del 900 esisteva ben prima che queste vi venissero collocate quelle sculture quelle mura fanno parte integrandosi a vicenda di una medesima storia la storia millenaria di Venezia Repubblica Serenissima grazie 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 a tutti